Grazie direttore, buongiorno a tutti. Sono particolarmente lieto di essere qui in questa giornata che è importante perché è l'espressione dell'attività che il giornale delle assicurazioni svolge in modo specifico, come prima veniva ricordato, proprio nel nostro settore. Il settore, permettetemi di chiamarlo così per il passato e il presente, è importante non fare confusione, ma insomma il settore assicurativo è nel DNA di chi vi parla. Quindi un ringraziamento particolare all'editore dottor Berlusconi, al direttore e anche a tutti gli altri organizzatori di questa importante giornata. La prima domanda, il settore assicurativo ha la capacità di contribuire, io aggiungo, in questo momento al rilancio dell'economia reale? I presupposti sono duplici. Primo deve avere una solidità patrimoniale che adesso vedremo come, in che misura può essere stata intaccata la crisi, perché se fosse lo stesso settore assicurativo ad essere abbisognevole di supporto, credo che il ruolo, almeno in questo momento, potrebbe essere modesto. Per fortuna, come vedremo, così non è. E poi esprimere tutta quella capacità e quella innovazione tecnica che l'evolvere dei tempi richiede per uscire proprio da un, diciamo così, da un guscio nel quale purtroppo è stato per molti anni in passato confinato, come ci ha ricordato il direttore e come ci ha ricordato lo stesso presidente, dottor Cerchiai. Un brevissimo scenno ai fattori della crisi, alla situazione attuale, perché evidentemente chi vi parla ormai è da molti mesi che si sta occupando in modo particolare di questo, in aggiunta a quella che è la normale attività, peraltro un po' eccezionale, determinata soprattutto dal ruolo che il codice delle assicurazioni ha attribuito all'ISVAP, quale doveroso, diciamo così, emittente di regolamenti di attuazione che sono stati ben 29 in questo periodo, da quando è uscito e questo ha fatto parlare abbondanza di regole in una tragedia, dovevamo farlo, lo abbiamo fatto e mi pare di poter affermare che qualche regola in fondo, come lo stesso dottor Cerchiai, ha poc'anzi ricordato, tutto sommato avvertito. Io volevo dire che l'impatto diretto della crisi a prime, monoline, è stato veramente modesto, siamo nell'ordine dello 0,34 delle riserve tecniche, lo stesso impatto della crisi degli emittenti americani come le Lehman Brothers o le banche islandesi. Grazie. 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 Grazie.